La risposta è Amladenovic Che bella questa pala corta Ci arriva la Tomlianovic ma lascia il campo sguarrato Prova a rallentare l'australiana Perché aveva vinto il primo set di quella finale Questo 2015 è stato però La risposta Circe le prese con la Fra poco toccherà a lui Separa E' rimasta in campo Non aveva preso la rete Aveva perso l'attimo Che brava Vicini Al set point Ecco fatto Viene subito avanti Amladenovic Molto brava Insomma alla fine Ora lo possiamo dire Che siamo 6-2 Vediamo se Chiamano ancora ok I Mavericks E insomma dopo questo Occhio di Falco Chiamato con un certo ritardo Chiamano quello che si stai Ancora hell Grazie a tutti